Buona domenica signori e benvenuti e ritrovati in un nuovo episodio di quanta roba craft Come state ragazzi? Mi ero dimenticato, nell'epidio scorso, di mettere il marrone sulle pressurprites Ho letto i post commentoli e mi sono... cioè non è che mi sono ricordato, ho visto, ho constatato che effettivamente mi ero dimenticato Ecco, finish pastille ultra Oggi ragazzi, visto che è domenica ed è mattino presto, mo' che sto registrando Vorrei fare, portarmi avanti un po' con le quest, che ne pensate? Killiamo qualcuno qua, sperando di non beccare John Cena perché abbiamo l'ultima vita a dispositions Dispositions Come detto nel video precedente, spero l'avete visto ragazzi, un nuovo survival futuristico, futuristico No F7 No raga dai, dai no ancora no Io non posso rischiare, muori, muori, non posso rischiare, ma come... Torce ne ho? Yes Uh, uh, no ma veramente? Ma veramente? Ok, lì in fondo è il lambaradam Lì, lambaradam è lì in fondo Puttacca, passato, vabbè che spattaticcio No, no, l'enderman no Madonna mia, sono anche pieno Come cattia è che quello non cade? John Cena! No, madonna Via, muori Dovevo andare a mettere... No, che mi buttano giù Mi buttano giù, mi buttano giù Ma dai, non ho messo le torce qua Forse Siamo a cavallo, eh Oh, oh, oh John Cena! No Oh Abbiamo pulito tutto Io qua devo mettere per forza ragazzi Fare il recinto Buongiorno Buongiorno Poi è bello che queste cose ragazzi Mi capitano Quando, quando c'è la luna rossa Sempre e comunque Andiamo a buttare un po' di roba Allora, uh, una borsetta Buttiamo questi Buttiamo questo Buttiamo questo Non posso Questo Uh, nebulus earth Buono Una reliquide Quello che intanto posso fare ragazzi È sistemare qua Vi ricordate che dovevamo Prolungare L'ambra d'am Oh, ho lasciato una rì Una cosa Ed è molto pericolosa Che c'è la luna rossa Abbiamo detto Allora, lungo 10 Ma molto più lungo Di quello Allora No Subito torce Subito torce Non scherziamo proprio Non scherziamo proprio Ne metto una già qua Ci portiamo avanti almeno Ok, finito Le ho finisce Dobbiamo attendere che ci faccia Altra terra È un po' lento sto coso comunque È vero che è automatico Ma è un po' lento Dovrei farmene a mano Fare prima forse Cominciamo a dare uno sguardo Alle le 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 Quest Allora, qua credo Non possiamo più andare avanti O forse sì Aspettate La Travellers La Travellers Sì, questa qua ancora non l'ho fatta Travellers Eccola qua Tre Sei cosi di pelle Sei cosi di pelle Eh, picchiamo le pelli Picchiamo le pelli Tanto da qua Hizz Ha già fatto Ha stronzato Ha già fatto Ha stronzato Vabbè io le chillo tutte ragazzi Ma che me ne fotte Sinceramente Tanto rinascono Ma che mi interessa a me Oh ma che mi picchia Tanto rinascono Basta che io abbia fatto Nove pelli Nove pelli Nove pelli E un po' di bistecche Ma io chillo anche queste Ma basta Ma basta Così togliamo anche sto ambaradam Che mi dà fastidio qui Oh basta Ma basta Oh vedi Già è rinata Già è rinata E allora pure a killare Perché tu muori Oh là Abbiamo un po' di pelle Possiamo fuori da questa Io in realtà No Aspetta In realtà Non so a che mi serve Travelers Growers Vabbè Tanto Facciamone una E cerchiamo di leggere il libro Allora dice Apply redstone To this Faster with Hands Che raga Non ho capito Cioè devo usarlo con la redstone Ma non ho capito perché Andiamo a cuocere sta roba Che vi intanto abbiamo una fornace Bella velociacchia Parapam Le bistecche Ma non abbiamo carbone Non ho carbone Ma seriamente Da ma come faccio ad avere carbone Scusatemi Posso mettere le staccionate Si Apriamo la borsetta Wow Beh del carbone strano abbiamo trovato Dai No questo è mio amico man Ciao pickless Allora un'altra quest Che possiamo fare Per esempio Prendiamo un blocco di cobblestone Che non ne ho Papapam Papapam Eccola qua Questa poi vediamo chi serve Con calma Beviamo un po' di succo di frutta Succo di fruschia Sinceramente E andiamo a vedere Ah raga vi ricordo Che oggi sono in live Cavolo non ve l'ho detto Oggi sono in live su hitbox Mi raccomando Link in description Allora Questa non l'ho riguardata La riguardiamo Ci da quello Allora Qua mi serve un botto di diamanti Nulla Qua mi serve anche qua I diamanti Nulla Qua Bisogna andare nel nether Possiamo fare questo qua Il trate di wood Possiamo fare questo qua No mi mancano i diamanti Possiamo anche rifare questa Che ci da una vita E questo è molto importante Più che altro per la vita Poi vedremo ragazzi Possiamo fare questa intanto Allora Nella quest precedente Di qualche episodio fa Ci ha dato tre Boccettine Eccole qua Queste qua ci serviranno Con del legno normale Facciamo il legno Della 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 mod Scusate il cello di sottofondo Tanto li sto per dare via Veramente Li sto regalando Aspetto che si vengono a prendere Li ho regalati E non li sentirete più Legno E tre boccette Voila Facciamo questo qua Me ne vengono ben 24 Fatto la quest Yes Fantastico Che ne servono 64 Fantastico E io come cacchio faccio A fare quelle boccette Che ci sono rite Nella coccoven E della coccoven C'era quest C'era quest I coke I coke brick E io questi qua Li avevo già fatti Io li avevo già fatti Lo giuro Lo giuro me li ricordo Dobbiamo semplicemente Trovarli ragazzi E bisogna trovarli Perché io li avevo fatti Coc Cocche Io faccio così Facciamo così Cocche Ok E facciamo così E così per forza Bisogna trovarli Qua sopra Qua Eccoli qua No Eccoli Eccoli No Dai no raga Li voglio Io li ho fatti Ho fatto la quest Ho fatto la quest Non posso non averli Non posso non averli Ho fatto la quest Non è che dici Non l'ho fatta L'ho fatta la quest Eccoli qua Eccoli qua Bam No dai raga Abbiamo il libro Dell'immersive engine Immersive engine Che ci spiega Come si fa Perché è così piccolo Update Ok Constructions Constructions Coccoven Eccola qua Papapam Parapam Così si fanno i blocchi Ok Eccola qua Allora Si può anche stoppare Volendo Non mi ricordo come Ma si può stoppare Ve lo giuro Forse con la barra spazzatrice No Ah ok Era qua Allora Sono 3x3 Alto 2 Alto 3 Bam Fatto 3x3 Per cui ne servono 3x3 No A voglia 9x18 27 Ne servono Ragazzi 27 Io ce li avevo Allora Qua Qua l'avevo Qua l'avevo tolte Poi L'avevo tolte Dove l'avevo messe Qua c'è la sand Qua c'è Ma vuoi vedere che sono nelle uniche ceste dove io non l'ho controllato Vuoi vedere Ma vuoi realmente vedere Guarda sono qua Bam Bam Oh veramente erano qui Erano qui veramente Non ci credo Non ci credo Oh mio dio ce li ho Allora la cocoven la facciamo qua Seguitemi Seguitemi Venite con me Qua dentro La facciamo qua Ma si la facciamo qua Allora la facciamo qua abbiamo detto Per cui la facciamo 1 2 3 1 2 3 1 2 3 E alta 3 2 3 E me ne avanza 1 Sì perché è un 27 Ora come si attiva Mi servirebbe il martello Il martello della Della cosa In general Che noi dovremmo avere Aether Carpenter Eh no eh Non ho il giardino Eccolo qua Eccolo qua Sapevo di averlo Quando la memoria è fresca E non è ritardante Guardate Sbambete Oh 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 Mai le dirò Le dirò Che io vivo Per lei Andiamo a cuocere Un po' di ferro Cuocendo il ferro Facciamo ehm Quella cosa E' un po' di ferro Allora io ne farei Allora stoppiamo Tipo qua Tipo una nether wart E questo è fattibile E questo è fattibile Questo è fattibile Si va nel nether A cercarla E oltretutto Mentre siamo nel nether Magari incontriamo Qualche mob Che ci aiuta Per l'altra quest Se ricordate Oh my god 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 Faremo un episodio Con tutti questi qua Ma adesso proprio non riesco E Ho capito Chi sono i chance cube Con la texture cambiata E per In corrispondenza Ad Halloween Spero di non aver fatto Una nastro Non mi aveva detto Una nastro Intanto sto già sistemando La cobblestone qua Perché Sono troppo pieno Mettiamo via la cobblestone Anzi Anzi Infatti Un po' Ce la teniamo Via Signore torce Perché le abbiamo Finite E i succhi di frutta E liberiamo uno slot E voglio appena Sai Eccomi qua Guarda che babbo Contro il cactus Allora Noi ci andiamo Direttamente alle rovine Ossia Costruzione Vedo la costruzione Blades Costruzione Ok E siamo qua Ottimo 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 Ora Mettiamoci in mano Anzi Carichiamo l'arma Che non si sa mai Eccola qua Andiamo a cercare Il I I cosi Oh Un magma Devi morire Devi morire È della quest Grazie Dimmi che me l'ha contato Dimmi che me l'ha contato Perché ti spacco la faccia Dimmi che me l'ha contato Due su quattro Sì Altri due magma E altre tre di quei ragni Allora mi serve Il fiore del nether Il fiore del nether E qua bisogna avere tanta tanta fortuna C'è fortuna Di solito non è così tanto raro Dentro le costruzioni Eh Basta semplicemente cercare Un Blades Però dovrei tipo scendere Ecco là Mi sta sparando Ragazzi Il ragno gigante È quello che mi serve È quello che mi serve Il ragno gigante Là c'è un altro Ragazzi Giuro Quel ragno mi serve Lo voglio È mio È mio È mio di principio È mio L'ho comprato È mio Se dico che è mio È mio Lo devo uccidere Non cadere giù Ti devo tipo uccidere Ok ora posso scappare Dei piccoli Non mi serve niente Mi interessava il grande No forse non era questo Forse non era questo Eh infatti Non è quello lo spider Dai che sfiga E qual è allora È quello lì Ragazzi mi serve Le rovine Più farlocche Le ho beccate io Perché Niente Non trovo il Il fiore Allora Oh 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 Una cesta Wow 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 Questo non fa mai male Io non so se ci vedete Ok Andiamo un po' Questa borsetta Cosa c'è Nulla di interessante Per il momento Allora Di qua Ok E di qua E ok Trovato Trovato E porca trotta Se l'ho trovato L'ho trovato E l'ho trovato E dai che l'ho trovato E dai che l'ho trovato L'ho trovato Porca trotta L'ho trovato Ci prendiamo pure la sabbia Perché anch'io Alla tua porta Bussa Bussa Alla tua porta E Perché Mi è notta Ancora Vabbè comunque L'ho trovato Un magma cube Allora Uh buono Ho trovato un magma cube Un'altra cesta Buono Ho trovato un magma cube Eh guarda che ho trovato anche i cosi qua I ruscelli ondulanti Ho trovato un magma cube Un altro Allora No Quello bisogna killarlo Perché sono veramente Difficili da trovare Il problema Che c'è un blaze Allora io devo correre contro il blaze Mangiamo qua E andiamo In guerra Vi ricordo che ho l'ultima vita Per cui sto rischiando Non Po Che cacchio c'è Dietro il mondo Due magma cube No devo andarci Eh no E devo andarci Devo andarci Devo andarci E devo andarci E devo andarci Prima tu Prima tu E muori Poi tu muori E mi serve l'ultimo magma cube Ragazzi eccolo lì Eccolo qui Eccolo qui E ci muori E dai che ci muori Aia 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 Ok Calma e sangue calmo Calma e sangue calmo Fatto Mi servono solamente gli speeder Una chest E' quella di prima Pirva Una chest Devo buttare dentro Questo che non mi serve L'armatura Vabbè non mi serve Molten Questo ok Dall'armatura Possiamo togliere l'oro Però teniamola Teniamola Via le ossa Ragazzi io a questo punto Andrei a cercare i ragni Che mi servono Ecco Sta zona non mi piace Ah Che spavento Che spavento Che spavento Mi ha picchiato uno zombie Epico Non è uno scherzo Paoloso Io scenderei raga Mi butterei qua A picchiare questi Perché Perché si Perché tanto Devo farli fuori Prima che rompano le scatole Oh Aspetta aspetta Che sto crepando Oh mio dio Oh mio dio C'ho qualcosa che mi segue C'ho qua Aspetta che picchio questo Ma perché mi becca lo stesso Ho qualcosa che mi segue È perché sono pieno Più che pirla Un ragno Ragazzi un ragno È forse quello che mi serve Oh Forse è quello che mi serve Questi non ci passano Sono alti Forse è quello che mi serve È quello grande rosso No Devi crepare Non puoi andartene Non puoi andartene Amico me Ok Sì era lui Era lui No 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 Ooh